Buongiorno, eccoci anche stamattina nell'edicola di 8 Channel e allora cominciamo subito con i giornali partendo dal Roma lo storico quotidiano napoletano fondato nel 1862 in primo piano la cronaca innanzitutto con l'indagine sugli euro falsi, bloccato il raggiro da record oltre 20 arresti tra Napoli e Caserta e poi con il caso delle sigarette al veleno, doppio blitz a melito liquidi illegali importati dalla Cina poi le altre notizie, il ministro Lezzi ieri ministro del Sud a Bagnoli e i grillini si spaccano, meetup e comitati pronti a protestare ieri la Lezzi è stata in regione Campania avuto un incontro con il governatore De Luca, Brusciano raid alla gioielleria portati via preziosi e orologi di valore e caccia alla banda e poi in taglio alto ancora la cronaca Scampia trema a fine pena per il boss Antonio Abbinante di nuovo in libertà scarcerato anche il RAS Giovanni Carriello detto il brigante e poi lo sport Napoli con Ancelotti con Carlo Ancelotti non ci sono limiti il pari e la prestazione col Paris Saint Germain hanno caricato gli azzurri ora serve continuità in campionato i tifosi sognano il passaggio agli ottavi di finale di Champions ma adesso bisogna pensare alla sfida di domenica sera al San Paolo contro la Roma e Insigne non si ferma più ha già segnato in questa stagione otto gol questo per quanto riguarda la prima del Roma adesso ci spostiamo sulle tematiche più nazionali con la Repubblica l'apertura Lega 5 Stelle gran rifiuto all'Europa allarme di Draghi sulle banche procedura di infrazione non pagheremo le multe intanto Trump chiama Conte avrai successo l'inchiesta di Repubblica dal Brennero al Terzo Valico fino alla Metro C tutte le grandi opere bloccate dai no dei grillini il caso mai più sorprese il prefisso 0844 rivelerà subito la telefonata per un'offerta commerciale e poi la storia la mia vita di schiava a 25 anni nel bosco dell'eroina di Milano a Roma il caso della morte di Desiree 12 ore di sevizie arrestato anche un terzo uomo questo per quanto riguarda la prima di Repubblica andiamo all'interno pagine 2 e 3 il caso spread l'allarme di Draghi l'Italia trovi l'intesa con l'Unione Europea il presidente della BCE preoccupato dagli effetti sul capitale delle banche fiducioso in un accordo ma abbassare i toni senza mettere in discussione l'euro arriva però un no da Lega e 5 stelle dall'altra parte ma Salvini punta ad alzare lo scontro non pagando la multa dell'Europa Bruxelles e l'ambocciatura della manovra ecco il retroscena se si dovesse andare alla procedura di infrazione contro l'Italia mancherebbe la norma che punisce chi non si adegua intanto andiamo qui in taglio basso troviamo lo scenario l'anima dialogante dell'esecutivo cioè il ministro Giorgetti Giorgetti e i moderati in campo per la trattativa e Trump chiama Conte con il sottosegretario anche Tria e Moavero intanto arriva il sì di Washington su immigrati ed economia qui nella fotografia il vice presidente del consiglio Matteo Salvini ieri durante la sua visita a Fiera Cavalli di Verona il leader della Lega si è detto sicuro che se lo spread seguirà l'economia reale dovrà inevitabilmente scendere proseguendo da Repubblica pagine 6 e 7 l'inchiesta i ricatti dentro l'arma quelle carte su cucchi sono il mio salvavita la congiura del silenzio mostrò fin da subito le prime crepe perché molti nascosero le copie di documenti compromettenti in linea con le risultanze emerse dall'indagine della procura non si sono acquisiti elementi di novità sul caso Cucchi così il generale Salvatore Luongo nel 2016 e poi Massimiliano Colombo nel 2018 loro sono furbi ma io non è che faccio questo lavoro da un anno la mail l'ho stampata l'hanno vista in tanti e ho fatto pure un filmino e poi tu conserva tutto un'altra dichiarazione emersa dalle carte tu conserva tutto perché se poi ti trasferiscono gli dici io ho queste cose mi fate restare o vado al giornale e poi nell'altra pagina pagina 7 il caso soffiate ai trafficanti di rifiuti illegali arrestati quattro carabinieri infedeli militari infedeli nel nucleo ecologico per non farsi scoprire dicevano meglio telegram di whatsapp proseguendo ancora da repubblica andiamo a pagina 13 il processo contro il sindaco raggi la raggi si difende io decisi la nomina del fratello di marra e rifarei tutto in aula la sindaca imputata di falso secondo i pm le chat con l'ex braccio destro la smentiscono se condannata per il codice etico del movimento 5 stelle dovrà dimettersi di che cosa stiamo parlando più approfonditamente è in corso il processo che vede la sindaca di roma virginia raggi imputata per falso per la nomina di renato marra al vertice dell'ufficio turismo quest'ultimo è il fratello di raffaele capo del personale capitolino e fedelissimo dell'ex prima cittadina sotto accusa una dichiarazione che la raggi ha inviato all'anac per dire che il numero uno delle risorse umane non aveva avuto alcun ruolo nella promozione del fratello per il pm questa ricostruzione è però smentita dalle chat della stessa sindaca questo dunque per quanto riguarda pagina 13 la politica romana proseguendo ancora da repubblica andiamo adesso a pagina 19 giù tutti e così l'autista del bus fa salire l'uomo in sedia a rotelle una normale storia straordinaria arriva da Parigi un pensionato disabile non riusciva a farsi largo tra passeggeri distratti o che sbuffavano allora il conducente ha reagito ed è diventato un eroe e poi la fotonotizia l'immagine in Etiopia la prima donna presidente ed è anche l'unica in Africa il Parlamento dell'Etiopia ha eletto appunto la Svede prima donna presidente del paese e l'unico capo di stato donna di tutta l'Africa tornando a questa notizia bella notizia che è arrivata da Parigi con la storia del pensionato disabile fatto salire sul pullman mentre tutti gli altri passeggeri sono stati fatti scendere ha spiegato di averlo fatto il conducente perché potrebbe succedere a chiunque ma l'autore del gesto non si sa ancora chi sia e poi ancora da Repubblica andiamo nel quartiere San Lorenzo a Roma per la storia di Desi 12 ore di sevizie i PM l'hanno uccisa con un mix di droghe proseguono le indagini a Roma tre fermi un nigeriano con il permesso scaduto e due senegalesi irregolari ora si cerca anche un quarto uomo non era la prima volta che la giovane si recava nello stabile in via dei Lucani secondo il medico legale l'adolescente non era più cosciente nel momento della violenza il quartiere il cantiere sgomberato sette volte in due anni ma il giorno dopo i pusher tornavano lì il degrado di San Lorenzo e gli allarmi inascoltati dal municipio ogni mese una denuncia al prefetto ma in realtà non c'è mai stato nessun intervento definitivo questo per quanto riguarda Repubblica Nazionale adesso prendiamo i temi più locali con Repubblica Napoli i 5 Stelle si spaccano su un bagnoli e fondi europei e su Ischia il ministro dell'ambiente Costa avverte non riesco a declinare il verbo condono mi affido al Parlamento trasporti i lavoratori CTP accampati davanti al municipio ecco la fotonotizia da mesi siamo senza stipendio ma nessuno ci ascolta e poi l'intervista con Chiara Muti porto al San Carlo il genio di Mozart un'altra intervista che riguarda il mondo della musica Luca Carboni voglio dire che la vita è una festa pop stasera il cantautore bolognese sarà in concerto alla casa della musica a Napoli all'interno di Repubblica Napoli la polemica pagine 2 e 3 fondi europei e bagnoli caos nei 5 Stelle ministra Lezzi sotto accusa la Lezzi promuove il governatore De Luca e scatta l'ira della Ciarambino è un incapace oggi vertice su bagnoli ma non ci sarà il meet up di Grillo perché dicono in polemica non c'è discontinuità con il passato rimpasto al comune comune di Napoli il sindaco premia Gesco e insurgenzia in pole position due donne legate alla cooperativa di D'Angelo e al centro sociale insurgenzia scontro sulle deleghe ai consiglieri e poi abbiamo visto la protesta davanti Palazzo San Giacomo degli autisti CTP in lotta da mesi nessuno ci vede da due notti dormono sui cartoni davanti al comune e chiedono di incontrare De Magistris non sanno più cosa inventarsi dicono ma noi resisteremo questo per quanto riguarda Repubblica Napoli adesso il mattino innanzitutto con la prima nazionale spread e manovra l'avviso di Draghi serve un'intesa la BCE parla di rischi per le famiglie e le banche Di Maio basta attacchi non cambiamo le inchieste del mattino la fuga senza fine dall'Italia dopo i figli via anche i padri emigrazione nel 2017 impennata di esodati e disoccupati anche over 50 il fenomeno di intere famiglie che raggiungono i ragazzi all'estero Desiree stuprata per 12 ore uccisa per divertimento l'orrore fermate tre extracomunitari nella fotografia la fiaccolata per Desiree ieri nel quartiere San Lorenzo a Roma e poi Napoli la metro a Singhiozzo ferma tre volte al mese in un anno registrati 35 stop sempre nelle ore di punta le cause treni troppo vecchi e troppi utenti in attesa per i ritardi e poi la Champions l'equipe Paris Saint Germain dominato l'Europa del calcio si inchina al Napoli di Roi Ancelotti questo per quanto riguarda la prima nazionale del mattino vediamo proprio un po' di sport dall'interno pagina 18 Carlo Re di Champions Napoli Big d'Europa Ancelotti in carta anche il Paris Saint Germain l'equipe lo esalta dominio tattico gli azzurri cresciuti in mentalità in signe sempre più tra i top player dal pari con il City all'impresa sfiorata al Parco dei Principi la crescita costante gli azzurri quattordicesimi adesso nel ranking UEFA e poi l'altra pagina della doppia che riguarda sempre il Napoli rivincita Maximovic da emarginato a star il difensore serbo è diventato l'uomo di fiducia di Ancelotti per le notti europee Sarri l'aveva mandato in Russia ora il suo valore di mercato è risalito e poi si parla dei gol last minute in questo girone di ferro il girone del Napoli tre scontri diretti tra le favorite decisi nel recupero Firmino in signe contro il Liverpool e appunto Di Maria i goleador dell'ultimo istante questa è la curiosità tra Napoli Liverpool e Paris Saint Germain match sempre molto tattici a conferma dell'equilibrio del gruppo questo per quanto riguarda lo sport dal mattino adesso prendiamo la prima interna del mattino Napoli De Luca piazza plebiscito riprendere subito i lavori il governatore quelle grate così grandi sono orribili ma una soluzione va trovata l'assessore calabrese è lo stop è lo stop del Mibact nessun conflitto daremo spiegazioni e poi Fondi UE regione promossa la lezis confessa i 5 stelle il comune oggi il rimpasto con il bilancino ma De Magistris perde pezzi metro 1 le corse senza certezza in un anno si è fermata 35 volte questo è il dossier del mattino ancora la cronaca maxi evasione all'erario la nicotina liquida ultima frontiera del contrabbando traffico sull'asse Cina Melito rischi per la salute il delitto di Chiaia la vedova Materazzo in famiglia ci sono stati subito sospetti su Luca e poi perseguitava Guido Lembo e Fabio Quagliarella con danna confermata nel processo al poliziotto stalker questo era il mattino Napoli adesso iniziamo il giro delle altre province partendo dal mattino Avellino ex moscati due anni per la riapertura ospiterà gli uffici della ASL tempi lunghi per il collaudo a causa delle infiltrazioni nella struttura la regione stanzia comunque 8 milioni di euro per programmare il trasferimento della sede liceo Mancini chiuso ingegneri in campo a rischio altri edifici l'ordine interviene sul no al dissequestro tanti immobili post terremoto sono fuori norma per i tecnici non c'è obbligo di inibire i plessi non antisismici e poi la politica cittadina sfiducia ecco il documento PD e davvero integrano il testo di popolari mai più preziosi e arace parlano di scelta obbligata intesa tra 20 consiglieri sulla mozione per disarcionare Ciampi oggi la consegna e allora su questo argomento vediamo il servizio preparato da Paola Iandolo la mozione di sfiducia per il sindaco di Avellino Vincenzo Ciampi è pronta sul tavolo e domani dovrebbe essere presentata il primo cittadino dopo giorni di silenzio ha deciso di parlare e precisare la sua posizione rispetto a questa scelta sono rispettose dei procedimenti democratici se l'opposizione ritiene di procedere in tal modo ne prendo ne prendo atto Ciampi non risparmia stoccata i suoi avversari che sono pronti per mandarlo a casa adesso è chiaro il gioco per me questo è un tentativo di restaurazione dei vecchi sistemi di gestione del potere partitocratico non a caso stanno tutti insieme senza differenziazione di colore politico e di bandire che io non potevo e non posso tradire gli avellinesi sul discorso del cambiamento e poi apre uno spiraglio per fare un passo indietro però con una convergenza sul dissesto i margini per discutere per invocare questa strada del cambiamento se c'è la volontà politica anche da parte degli altri si possa ancora fare a breve abbiamo un evento decisivo per la città che è l'approvazione del consuntivo questo evento potrebbe determinare le condizioni per intraprendere un discorso di solidarietà se dovesse essere dissesto sarebbe una rottura forte rispetto al passato eventualmente si potrebbe aprire una nuova storia sempre su Avellino il voto del 31 ottobre alla provincia le elezioni provinciali scontro a distanza Biancardi-Vignola e poi isochimica operai in trincea diffida al ministero per i controlli sulla salute questo per quanto riguarda Avellino adesso prendiamo Caserta e troviamo la sanità il caso senegalese muore polemica sui soccorsi l'uomo si era sentito male in casa disposta all'autopsia i medici del 118 chiamata registrata tutto regolare e poi l'apertura è questa qui di centropagina l'inchiesta internazionale i falsari precisi come la BCE banconote da 20 euro finite nel giro delle banche irriconoscibili dai sistemi Bancomat i magistrati spiegano in retroscena shock dopo i 22 arresti in Francia e Campania vediamo il servizio anche su questo da Napoli alla Lorena in Francia per far girare soldi falsi in tutta Europa protagonista della vicenda sono i falsari di Martino di San Giorgio a Cremano che avrebbero prodotto banconote quasi uguali a quelle originali finite nel mirino della BCE che ha avvertito un serio rischio di infiltrazione nel sistema bancario un'opera fatta d'arte ma l'uso di una di quelle banconote da parte di un narcos del casertano è costato caro perché ha dato il via alle indagini approfondimenti internazionali che hanno portato all'arresto di ben 22 persone tra l'Italia e la Francia le autorità francesi hanno chiesto collaborazione magistrati italiani nelle indagini che hanno visto partecipare i carabinieri di Capua all'Interpol e l'Europol 2 euro per una banconota da 20 euro 7 euro per una da 50 poi il prezzo saliva ad ogni passaggio di mano era questo il tariffario della banda degli onesti di Capua gli artisti del falso erano Enrico e Vincenzo De Martino padre e figlio che avevano avviato la stamperia clandestina di banconote false in alcuni cunicoli insonorizzati ricavati nei garage di alcune palazzine popolari a San Giorgio a Cremano da qui partivano i soldi falsi sono stati sequestrati circa 100.000 euro contraffatti verso il nord Italia e la Francia in particolare Marsiglia e la Lorena dove le banconote passavano ad intermediari di secondo livello con il relativo aumento di prezzo fino a finire sul mercato Siamo ancora sul mattino caserta e troviamo fiamme e paura al belvedere studenti in fuga dal meeting tempisti in azione nei bagni ancora il supertreno Merci parte dall'interporto viaggio inaugurale per Bologna sulla linea dell'alta velocità a 235 km orari questa la svolta nel mondo dei trasporti andiamo adesso sul mattino benevento dove troviamo l'apertura che riguarda il commercio scontro sui brand il presidente dell'associazione di categoria romano attacca il comune centro da rivitalizzare ma non c'è dialogo in città i negozi chiudono Ambrosone i grandi marchi portano ricchezza e poi andiamo in taglio alto dove troviamo la cronaca l'escalation di roghi e sparatorie valle caudina sottotiro colpo di fucile contro una macelleria a Moiano ed è emergenza dopo i due incendi ad Airola pinze e cacciaviti in auto 68enne preparava colpi denunciato gli paga la frutta ma viene derubato ambulante ruba portafoglio a Cautano le telecamere lo inquadrano durante la fuga e poi viene arrestato il ponte San Nicola testa al via ma il rebus sulla riapertura e poi anche spazio ai beni culturali e alla sanità ASL task force anti-aggressioni al personale questo per quanto riguarda Benevento adesso andiamo su Salerno dove troviamo innanzitutto le fonderie Pisano Valzer dei sigilli il Tar ferma la regione stabilimento riaperto pochi riscontri sulla pericolosità revocato in via temporanea lo stop di 45 giorni il giudice parla di provvedimento pregiudizievole e poi salernitani in fuga 136.000 emigranti l'analisi raccolta nel rapporto migrantes trend in crescita 6.000 in più in un anno taglio del nastro della fabbrica e lettieri dice a De Luca fa il sindaco di Napoli lui glissa a Salerno promesse mantenute ancora scorrendo Marra si difende il medico dell'ospice della morte dose terapeutica a quel paziente il medico ha parlato per 4 ore non l'ho ucciso gli infermieri scelgono invece la via del silenzio c'è stata una tornata di interrogatori indagini bis soldi sequestrati a una donna Pacinotti casse svuotate ex dirigente tecnico nei guai e poi la giustizia il focus processi da autogol cellombra prescrizione questo per quanto riguarda Salerno adesso sempre a proposito di Salerno vediamo le cronache il caso della fabbrica lettieri apre ma non paga la denuncia di un operaio Lucio Iuliano che denuncia la mancata corrisponzione degli stipendi poi 5 stelle sul lucido artista De Luca Paga e il sindaco di Torino Appendino in cassa il dottor Marra si difende nessuna iniezione letale ho rispettato la volontà del giovane di andare a casa non ho praticato l'eutanasia e poi anche i presidi truffano a Scafati al Paciotti il dirigente scolastico sia la bonifica per 10.000 euro e 3.000 euro sono andati invece alla compagna questo per quanto riguarda le cronache dove troviamo anche spazio alla politica Santoriello all'attacco del sindaco Servalli a Cava di Tirreni parla il professore di Forza Italia ha trasformato l'ordinario in straordinario e beneficia dei risultati della precedente giunta Galdi questo per quanto riguarda le cronache di Salerno prima di chiudere naturalmente spazio al nostro sito ottopagine.it partendo da Napoli dal capoluogo partenopeo cronaca San Giorgio a Cremano soldi falsi smantellata la banda la stamperia era nei garage poi contrabbando di sigarette elettroniche maxi sequestro in Campania scomparso nel mare di Capri da due settimane ritrovato il cadavere sarà il test del DNA ad accertare l'identità del corpo il cadavere è stato ritrovato a largo di Anzio e ancora da Napoli l'ultima slide impresa sfiorata ma al parco dei principi e grande Napoli un gol di Di Maria al novantatresimo fa svanire la vittoria degli azzurri sul Paris Saint Germain andiamo adesso su Avellino e allora fermati ragazzi armati di spranga volevano pestarci i giovani fermati dei poliziotti in via Scandone hanno raccontato di essere stati aggrediti indagini in corso della sezione volante della Questura sequestrata una spranga telescopica a uno dei due ventenni fermati ancora dal capoluogo Irpino Avellino il calcio tutti sotto esame Graziani spera in due recuperi per il match contro il Sassari Latte Dolce donna morta a due passi dal Coni altre indagini sui soccorsi prorogate appunto le indagini è indagato un operatore del 118 e poi l'ultima slide da Avellino è questa ospedaletto d'Alpinolo supermarket di Petardi per Ultras di tutta Italia patteggia due anni pena patteggiata e sospesa per un 32enne di ospedaletto assolto l'altro imputato andiamo adesso su Salerno dove troviamo Lucida Artista l'attacco del capogruppo 5 Stelle Saiello a Torino paga la società che da De Luca ha ottenuto 12 milioni scorriamo ancora dal capoluogo salernitano minorenne plagiato e stuprato chiesti 28 anni per gli aguzzini battipaglia area di crisi la soddisfazione della sindaca Cecilia francese e poi la cronaca in tasca soldi pubblici per l'associazione denunciato un dirigente a Scafati abbiamo visto nei guai il preside di un istituto scolastico per la guardia di finanza si sarebbe appropriato di 13 mila euro ma la notizia del giorno è sicuramente la decisione sulle fonderie Pisano perché il Tar ferma la regione e fa riaprire lo stabilimento allora vediamo il servizio il braccio di ferro sulle fonderie Pisano di Salerno si arricchisce di una nuova puntata e ad avere la meglio nell'ennesimo pronunciamento giudiziario stavolta è l'azienda il Tar di Salerno ha infatti bloccato la sospensiva che era stata emessa precedentemente dagli stessi giudici del tribunale amministrativo e poi confermata dal consiglio di stato lo scorso mese di giugno un provvedimento scaturito dopo la revoca da parte della regione dell'autorizzazione integrata ambientale per il mancato rispetto di alcune prescrizioni imposte dalla normativa il consiglio d'amministrazione dell'opificio di Fratte assistito dallo studio legale Enrico Follieri e dall'avvocato Lorenzo Lentini si è opposto alla sospensione dell'attività ed ha incassato il via libera alla ripresa produttiva soddisfatti i legali dell'azienda salernitana che in una nota hanno espresso soddisfazione per il provvedimento che consente alla proprietà di poter riaccendere gli altoforni e ai lavoratori di tornare in servizio per l'avvocato Follieri infatti le violazioni in materia ambientale sono ancora tutte da individuare e dimostrare così come i pericoli per l'ambiente e la salute la sentenza monocratica per ora dunque sospende lo stop in attesa del pronunciamento del collegio giudicante da parte del TAR di Salerno previsto il prossimo 21 novembre insomma continua il tiro e molla nelle aure di tribunale per le fonderie Pisano tra vittorie sconfitte l'azienda da un lato e comitati e associazioni dall'altro incrociano le lame per far valere le proprie ragioni mentre la partita della delocalizzazione è ancora tutta da giocare da Salerno ci spostiamo su Benevento Mastella a Rimini il governo estrabbico di fronte a noi sindaci così il primo cittadino all'assemblea nazionale Anci si sottovaluta troppo spesso il nostro ruolo le altre slide dal capoluogo Sannita lo sport la Lega B ricorre contro la sentenza del TAR scorrendo ancora la cronaca Benevento quel video che non c'è e che ora potrebbe essere inutile contributi dei servizi sociali udienza del processo per Scarinsi ed altre tre persone l'ultima slide dal capoluogo Sannita è questa qui riguarda la giudiziaria piante di canapa indiana assolto artigiano di Cusano il fatto non costituisce reato per Domizio Cassella arrestato nel 2017 per chiudere vediamo anche cosa c'è su Caserta Trento la Ducenta tragedia in paese cinquantenne si uccide nel suo negozio poi schiacciato da un albero muore un taglialegna inutili soccorsi per il 34enne non c'è stato nulla da fare ancora da Caserta Mondragone 5 chili di droga in un intercapedine blitz dei carabinieri e poi notizia questa dei giorni scorsi a Castelvolturno la DIA ha sequestrato un'azienda di bufale va bene è tutto per stamattina per l'edicola di 8 Channel grazie regia ad Aldo Fenizia prossimi appuntamenti con l'informazione in mattinata ci sarà sicuramente il touch alle 11 in rete con 8 pagine punto it per poi arrivare alle 14 alle 14 e 30 con il TG News regionale e il TG Sport delle 14 e 30 ad Angelo Giuliani una buona giornata arrivederci a presto